Ciao cari amiche, pronte, anzi prontissime per il back to school. Oggi vi propongo completi in felpa molto pratici per andare a scuola, per andare all'asilo di questo brand che già conoscete, Sun68. Abbiamo la tuta che parte proprio dai 2-4 anni fino ai 16 anni, quindi il completino così del pantalone con tutte le rifiniture fluo in arancio dove se volete a completo avete anche la sua felpa nel nero così. Da arvinare e da staccare eventualmente sia il pantalone o la felpa con l'arancio, quindi possiamo metterci una bella felpona arancio sopra il nero, come vedete, o anche bellissima questa felpa con un jeans nero o blu, oppure un altro modello qui sempre nella stessa tonalità col cappuccio sempre in arancio. Queste t-shirt molto molto interessanti perché sono elasticizzate in piquet girocollo, quindi è un primo mettere proprio e le ho in versione sia in bianco che in grigio. Taglie dalla 4-2-4 fino a 16 anni. La felpa sempre in piquet, pesantina, quindi è una felpa leggera, però sicuramente un piquet un po' più pesante. e ce l'avete dotata del suo cappuccio, così, con meraviglioso il suo pantalone con questi ritocchi, vedete, questi piccoli accenni di fluo nella gamba, addirittura anche con la taschina, così, la finita taschina dietro. Quindi possiamo metterli a completo così, oppure anche con la sua felpa la stacchiamo. Vedete? Tutto che si può sovrapporre a completo o anche staccando gli abbinamenti. Bene, siete pronte per il Back to School? Vi aspettiamo! Ciao, buona giornata a tutte! Ciao, buona giornata!